Circa 240 opere esposte, lavori che includono sculture, testi, dipinti alle scuderie del Quirinale. Arrivato il momento di rendere omaggio a Ovidio, terminate le celebrazioni per il bimilenario, è conservito un allestimento che si sviluppa sui due piani di cui dispone la struttura capitolina e reso possibile attraverso un elevato numero di prestiti tramite il coinvolgimento di almeno 80 musei italiani e internazionali curata da Francesca Ghedini. La mostra intitolata Ovidio, amori, miti e altre storie si potrà visitare fino al prossimo 20 gennaio. Il percorso è scandito dalla presenza di tanti pezzi pregiati, si pensa alla venere pudica di Sandro Botticelli, Benvenuto Cellini, Tintoretto e José de Ribera, sono solo alcuni dei tanti autori che nel tempo si sono cimentati nella raffigurazione delle storie ovidiane. Contrariamente a tutti i poeti dell'antichità, Ovidio è quello forse più amato proprio perché è meno scolastico, è meno libresco, è meno aulico. È un poeta che racconta in maniera vivida, in maniera anche brutale qualche volta, la realtà anche delle debolezze umane. Da questo punto di vista io credo che questa è anche la chiave della sua popolarità e guardando la mostra con occhi liberi, davvero dovrebbe essere tutto sommato un modo di veicolare, un grande della nostra cultura in un modo davvero aperto al grande pubblico, che è quello che a noi principalmente interessa. I lavori selezionati si ricollegano ad Ovidio e al suo immaginario in vari modi. Se certi dipinti rileggono la vita del poeta e il suo rapporto contrastato con l'imperatore Augusto, altre opere sono invece influenzate da alcuni suoi scritti. La prospettiva dello sguardo sul mondo femminile 1, poi c'è pure la contrapposizione tra la severità degli dei ufficiali del Principato e le sensuali figure che animano i versi delle metamorfosi.